Buon pomeriggio edizione straordinaria del nostro giornale per due avvenimenti internazionali che dal primo pomeriggio stanno richiamando l'attenzione con grande energia. Innanzitutto occupiamoci della Turchia perché poche ore fa, esattamente un'ora e mezza fa, la Turchia ha attaccato la Siria. L'ho annunciato su Twitter il presidente Erdogan spiegando che l'operazione turca contro la milizia kurda nel nord-est del paese è cominciata. Diverse esplosioni sono avvenute nella località siriana di frontiera di Ra's al-En. I media locali hanno parlato e mostrato le immagini di una filta coltre di fumo che si leva dalla parte siriana del confine. Tra l'altro la stessa Turchia aveva informato di ciò i membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Secondo le ultime notizie che sono arrivate sono stati colpiti obiettivi delle forze kurde dell'IPG a Tal Abyad. Si tratta dell'altro punto da cui l'esercito di Ankara intende entrare in Siria. Sono stati avvettuati raid su quattro villaggi siriani. L'operazione militare turca è denominata fonte di pace. I precedenti interventi militari condotti in Siria erano avvenuti tra il 2016 e il 2018. Tra l'altro lo stesso Erdogan ha fatto sapere che questa operazione eliminerà le minacce terroristiche. L'altro evento è arrivato intorno all'ora di pranzo, una sparatoria a Hall, una cittadina tedesca nell'est della Germania. Tra l'altro ci sono due vittime accertate, almeno una persona è stata affermata, non si sa ancora se si tratta dell'attentatore, mentre altre due sono in fuga. Tra l'altro nelle immagini che si vedono, tra l'altro la sparatoria è avvenuta davanti a una sidagoga dove è stata lanciata anche una granata. Lo sparatore vestito da militare è esploso colpi contro una tavola calda che offre tra l'altro panini di carne alla turca. Il locale è stato inquadrato da una tv tedesca di informazione che sta continuando a monitorare la situazione. Questa è la situazione al momento per quanto riguarda queste due principali fonti, queste due principali situazioni di allerta. Da una parte l'attacco della Turchia in serie e dall'altra un attentato terroristico avvenuto a The Hall in Germania che per ora ha provocato due morti. Ulteriori informazioni ed approfondimenti nel nostro telegiornale delle 19.30. A più tardi. Grazie. Grazie.